Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura di Vito Gardiol, pastore alla chiesa di Prali. Cari fratelli e care sorelle in ascolto, buongiorno. Il Signore ci accoglie, si rallegra di vederci e riuniti, la Sua parola ci fortifica, il Suo Spirito ci consola e ci rallegra. Amen. Dal Salmo 1 leggo Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, fonte della nostra vita, come un albero si nutre dell'acqua, noi abbiamo bisogno della Tua parola per vivere. Le nostre radici sono la Tua grazia, il nostro fogliame è il Tuo amore. Come un albero ha bisogno del vento per essere mosso, noi abbiamo bisogno del Tuo Spirito. Nutrici con la Tua parola, oh Signore, rialzaci tramite il Tuo perdono e rafforzaci con la Tua benedizione affinché possiamo portare frutto e diventare un rifugio per chi lo cerca. Nel nome di Gesù. Amen. Santo, 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 che è pieno degli esercizi, tutta la terra è piena con la sua gloria. Santo, 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 il Dio mi potente, a Lui la gloria per l'eternità. Il testo che ascoltiamo è tratto dall'Evangelo di Luca al capitolo 12 versetti da 13 a 21. Ora uno della folla gli disse Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro State attenti e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse Questo farò Demolirò i miei granai Ne costruirò altri più grandi Vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni E dirò all'anima mia Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni Riposati, mangia, devi, divertiti Ma Dio gli disse Stolto questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé E non è ricco davanti a Dio Cari fratelli e care sorelle Qualcuno fra la folla inizia così Il nostro testo E questo qualcuno è un uomo che vuole accapparrarsi Gesù E questo tentativo è ancora frequente anche oggi Che si tratti di chiesa o di singoli credenti Gli uomini che li invocano Cercano sovente di reclutare Gesù Perché accomodi ciò che gli uomini hanno guastato E soprattutto perché egli in qualche modo sposi la loro causa Li favorisca La preghiera cristiana in tante occasioni non è che questo Signore, dia mio fratello di condividere Signore, rendimi ciò che gli altri mi hanno tolto Rendimi giustizia Difendi la mia causa E naturalmente Se si tratta della mia e della nostra causa Non può che essere buona Una nobile causa, certo Ma ecco che E brutalmente Gesù si rifiuta Rifiuta di lasciarsi usare Di farsi accapparrare Anche se si tratta della nobile causa della giustizia Rifiuta di rispondere positivamente alla preghiera Rifiuta di usare la sua autorità di figlio di Dio O semplicemente la sua autorità di rabbi Di maestro Per far regnare un po' di giustizia fra gli uomini Egli rifiuta Di lasciarsi ingaggiare Per costringere gli uomini Ad essere più rispettosi dei diritti degli uni Verso gli altri Naturalmente Questo atteggiamento di Gesù Causa Delusione Confusione Nel suo interlocutore Se è lecito e normale Che preghiamo talvolta per noi stessi La preghiera Non ha tuttavia come obiettivo primario Questo aspetto Soprattutto Quando si tratta di riempire Il proprio portafoglio Se Gesù fosse venuto Semplicemente per cercare Di stabilire un po' di giustizia Fra gli uomini Non solo sarebbe stato un moralista Fra i tanti Ma come dice egli stesso Sarebbe diventato Nostro giudice Per tutti Non solo il giudice Che distribuisce le ricchezze Fra gli uomini Ma il giudice Che retribuisce tutti E rende ad ognuno Secondo le proprie offese La sua azione di salvezza Insomma sarebbe diventato Una missione di morte E la sua liberazione Si sarebbe rivelata Come un giudizio Per tutti E in fondo è questo Solamente questo Che Gesù rifiuta Il racconto infatti Non significa Che Gesù sia contro La giustizia A favore dei ladri Degli imbroglioni O che noi dobbiamo essere Indifferenti Di fronte all'ingiustizia D'altronde Implicitamente Gesù rinvia Quest'uomo Ai suoi giudici E questo perché Egli è felice Che gli uomini Cerchino di praticare Meglio la giustizia Di ripartire meglio I beni Che il creatore Ha loro donato Ma egli Non è venuto Per costringerci A praticare La giustizia Non è venuto Per obbligarci Ad essere giusti Ma per Giustificarci Ed è per questo Che egli Non parla Ad uno solo Dei due fratelli Ma ad entrambi A entrambi Perché tutti e due Hanno bisogno Di essere liberati Sia lo sfruttatore Sia lo sfruttato Forse Non è molto conveniente Nella nostra società Contemporanea Dire che Gesù Parla Ad entrambi E questo perché Si dimentica Anche nella chiesa Che egli È morto Per entrambi Non è molto conveniente Dire che l'Evangelo Non riserva Tutto il suo amore Per gli uni E la sua parola Di giudizio Per gli altri Eppure È così Gesù Parla A entrambi E si rifiuta Di diventare Il giudice Degli uni Per rimanere Il salvatore Degli uni E degli altri Questo testo Cari fratelli E care sorelle Non può dunque Che porre Dei seri interrogativi A coloro Che vorrebbero oggi Mescolare il Cristo E la sua chiesa Alle questioni Di eredità E di proprietà Perché paradossalmente Essi sono eredi Di coloro Che ieri Si accaparravano Il Cristo Per difendere I diritti Di proprietà Occorre Sempre ricordarsi Che accaparrarsi Il Cristo Anche se per cause Nobili Significa sempre Farne un giudice E che da quel momento Egli diventa Giudice Anche di coloro Che se lo accaparrano Certo È chiaro Che Gesù Non ci impedisce Di lavorare Umanamente Per ristabilire Una giustizia migliore Al contrario Rifiuta Semplicemente Di essere messo Da parte E di diventare Proprietà Di una parte Dell'umanità Contro Un'altra parte Di umanità Per questo Il suo avvertimento Riguarda Tutti e due I fratelli Anche se uno Dei due È forse più coinvolto Dell'altro Il suo avvertimento È quindi Per noi Tutti Sia che siamo Ricchi Sia che siamo Poveri Gesù tuttavia Non sprofonda Nello spiritualismo Non parla Dell'anima In opposizione Ai beni materiali Nel nostro testo Succede Il contrario È l'uomo ricco Che parla Dell'anima Della sua Anima E curiosamente I ricchi Parlano sovente Della loro anima O della loro coscienza E forse è così Perché sovente L'hanno persa Ed è effettivamente Il dramma Dell'uomo Del nostro racconto Egli ha perso La sua anima Così come Ha perso Il suo nome Avrete notato Come Nelle sue parabole Gesù non dia mai Dei nomi Agli uomini ricchi Pensiamo a quella Del ricco E del lazaro Anche quell'uomo Era senza nome Anche lui Era diventato Potremmo dire Un uomo Qualsiasi E in fondo È proprio questa La conseguenza Prima della ricchezza Essa rende Anonimi L'uomo Della parabola Pensava senza dubbio Di essere diventato Qualcuno E invece Non riesce Che a diventare Un uomo Qualsiasi Aveva messo Da parte Una fortuna Ma aveva perso La sua identità E questa questione Dell'anonimato Che procura La ricchezza È un pensiero Sul quale Dobbiamo Riflettere Perché nella Bibbia Il nome È intimamente Legato Connesso Alla persona Stessa O più esattamente Il mio nome È la mia Relazione La mia presenza Vivente Di fronte Agli altri Al mondo A Dio L'uomo Ricco Perde Il suo nome Perché Anche se A molti Rapporti Non è più Veramente Legato A qualcuno È legato A una sola Cosa Ciò che ha La sua Ricchezza Egli non vive Più se non In rapporto Con i suoi beni E per i suoi beni Le sue ricchezze Diventano La sua vita E La sua anima Il suo errore È semplicemente Il non più Pensare Agli altri Egli non parla Che di sé stesso Della sua anima La sua compagna I suoi figli I suoi amici Perfino i suoi nemici I suoi operai Nessuno occupa Un benché minimo Spazio Nel suo monologo Nella sua vita Nel suo avvenire E questo Non è rimasto Altro che Un Io Nella sua vita Non esiste più Il tuo Non esiste Alcun parte Se non la sua anima O ciò che resta Della sua anima Infatti Si dice La sua anima È diventata Granaio La sua persona Intera È diventata Granaio Il suo avvenire È diventato Il grano La sua ricchezza Oggi diremmo Il denaro Il potere Il prestigio Eccetera Ed è così È così Che senza Accorgersene È diventato Un uomo Chiuso Senza avvenire E senza Prospettive Un uomo Morto Che non vede Altra speranza Se non Nel grano Morto E per questo Dio Gli toglie La vita Dio Non fa Che ratificare Il verdetto Stesso Che quest'uomo Da tempo Aveva pronunciato E coltivato Su se stesso A quest'uomo Che aveva perso Ogni intelligenza Che aveva perso Il suo nome Cioè la sua identità Dio toglie Un'anima Diventata Ormai Superflua Ecco Il grande Rischio Della ricchezza Essa rischia Di ucciderci Eliminando Gli altri Dalla nostra vita Diventando Il nostro Unico Avvenire Essa Rischia Di fare Di ognuno Di noi Un nio Solitario Che si crede Maestro Il padrone Del proprio Avvenire E talvolta Dell'avvenire Di altri E non si accorge Di essere diventato Un essere chiuso Un essere Senza Avvenire Certo La ricchezza Non è l'unico Potere Che qua giù Può ucciderci Ma Gesù Cristo Ci ricorda L'Evangelo È venuto Si è dato Perché noi tutti Potessimo iniziare Innanzitutto Dire Tu Addio Perché potessimo Avere un avvenire Vero Aperto E questo Perché dal momento In cui entriamo In un dialogo Autentico Con qualcuno E con il Signore Gli restituiamo Il suo avvenire E la sua vera Ricchezza Gesù è venuto Anche affinché Gli altri Diventassero Anch'essi Dei tu Dei partner Riconciliati Che possano Anch'essi Disporre Del nostro avvenire E dei nostri beni Da quel momento Avremo un nome Un'identità Anche se perderemo Le nostre ricchezze E i nostri beni Perché sarà Il nome Che il Signore Ci ha dato E l'identità Che ci è stato Permesso Costruire Nel continuo Tentativo Di esprimere Nella nostra Testimonianza All'Evangelo La fedeltà A Dio Amen Nel mattino Ancora Cielo Tuo Sembri annunziare Calvo Il Signore Da Sirene Si vede a Roma, venga e si frede. Vede a Roma, quel giorno vado frede, il turminne, la vita intorno a te. Con le loro voci, il mondo e il cuore insieme, non copra mai la voce del cuore. Vede a Roma, quel giorno vado frede. Vede a Roma, si vede a Roma, venga e si frede. Vede a Roma, quel giorno vado 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 frede. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, il tuo comandamento ci chiede di amare il nostro prossimo e davanti a te ci ricordiamo di chi è nel bisogno, di chi si sente rifiutato. Preghiamo per coloro ai quali mancano le cose più elementari della vita. Cibo, acqua, pulito, un posto sicuro per vivere. L'opportunità di sognare. Signore, tu ci hai chiamati ad amare il nostro prossimo e allora aiutaci a essere solidali con la forza della tua giustizia e del tuo amore. E per questo preghiamo per coloro che vorrebbero stare bene ma che soffrono nel corpo o nell'anima. Signore, tu ci hai chiamati ad amare il nostro prossimo. Aiutaci a servire gli altri con la forza della tua guarigione e della tua consolazione. Ti preghiamo per coloro che vorrebbero essere amati e stimati ma che sono disprezzati e rifiutati. Signore, tu ci hai chiamati ad amare il nostro prossimo. Aiutaci ad accogliere e ad amare gli altri con la forza del tuo regno che viene. Te lo diciamo nel nome di Gesù che ci hai insegnato a dirti Padre nostro che sei nei cieli. Il tuo nome sia santificato, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. non esporci alla tentazione ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. Dice l'Apostolo Paolo La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese a cura del pastore Vito Gardiol. Vito Dio Vito Dio